... Nicola Negro, nuovo allenatore della Trentino Rosa, c'è tanto entusiasmo per questa nuova avventura perché ci sono anche tanti volti nuovi. Sicuramente, è un'avventura nuova per molti, non solo per me, ma anche per alcune ragazze che giungono a Trento. Ci apprestiamo ad affrontare questa stagione che sarà molto impegnativa, ma anche sfidante e cercheremo di essere protagonisti. Quali sono le caratteristiche della squadra che avete costruito? È una squadra che rispecchia un po' l'idea che avevamo quando abbiamo iniziato il mercato. Volevamo costruire una squadra che fosse un giusto mix tra atleti esperti, soprattutto con esperienza di categoria, parlando di A2, e altri atleti più giovani, ma su cui abbiamo individuato delle qualità e potenziale crescita e contiamo molto anche su di loro. Spicca, direi, il terzetto di pallalta, che dovrebbe essere un po' la vostra punta di diamante, no? Sì, sono arrivate a Trento due attaccanti di primissimo livello, come Chiosi e Decani, e una giocatrice più di equilibrio come Fiesoli. Sono tre giocatrici su cui ripongo molte aspettative, ma dietro di loro abbiamo anche degli elementi giovani molto interessanti. Micheletto, reduce da un'infortunio importante purtroppo alla Caviglia stagione scorsa, sta disputando un'ottima stagione sulla spiaggia, e Moro, un'altra ragazza giovane molto interessante che sicuramente sarà di apporto. Dal punto di vista personale, qual è la tua sfida in questa stagione? È una sfida nuova, è una categoria nuova per me la 2. L'ho disputato una volta sola, dieci anni fa a Milano, poi tanto estero, Serie A1, quindi è un campionato che non conosco direttamente, anche se ho sempre seguito con interesse da esterno. Arrivo in punta di piedi, ma ho le idee chiare anche su come voglio che la mia squadra affronti questo campionato, e su come voglio che giocheremo. Due difficoltà, una il grande numero di partite che dovrete affrontare, e anche di trasferte, poi anche un livello molto alto. Quali temi di più fra questi due aspetti? Il livello alto penso sia uno stimolo maggiore a lavorare bene in palestra e a fare bene. Quello che mi preoccupa di più è la gestione della stagione, perché ritengo una, due, diciassette squadre e con trasferte così impegnative, con un calendario così fitto, eccessivo. Eccessivo per quelle che sono le organizzazioni della maggior parte dei club di A2. È un impegno quasi da squadra che deve affrontare le Coppe Europee, e questo non è sicuramente una situazione ideale per lavorare. Trento è una città dove ci sono tante squadre di pallavolo, si respira secondo te area di grande volle? Penso di sì. Il Trentino maschile è un patrimonio non solo della città di Trento, ma della pallavolo mondiale, la loro storia è lì a dimostrarlo. Sicuramente arrivare in una città che respira volle da tanti anni è interessante, e spero che riusciremo ad appassionare i Trentini un po' di più anche alla femminile. Penso che ci sia lo spazio anche per crescere, anche per la pallavolo femminile qui. Per chiudere, se dovessi stilare una griglia di partenza della nuova A2, chi metteresti in pole position? Far nomi magari faccio dei torti, però sicuramente Cuneo e Chieri sono due squadre che hanno costruito delle squadre decisamente per puntare alla promozione. Dietro di loro però ci sono almeno 8-10 squadre molto interessanti, tra cui facciamo parte anche noi di questo gruppo. Penso che in questo momento è difficile fare pronostici, la differenza farà per chi saprà essere più costante i risultati durante la stagione, vedremo cammino facendo. E anche chi avrà più resistenza fisica a questo punto? Certamente, la componente fisica della preparazione della condizione sarà fondamentale e sarà uno dei fattori determinanti per il risultato finale.